Signori siamo ritornati sul gioco del millennio proprio quello che ti fa capire cosa serve la scuola niente quanto ci sono sti giochi Eravamo rimasti ad un punto preciso continuiamo da lì let's go è l'ultimo livello questo Ragazzi l'ultimo livello prima del finale che è questo nella discoteca Spiegatemi da una discoteca io come posso arrivare all'oceano va bene Proviamoci ragazzi ve lo giuro un giorno tornerò e vi libererò E' una promessa credetemi let's go E poi muoio allora devo uscire di qua devo fare un bel salto ok Vamonos Ecco Non ci credo sono entrato va bene E devo schivare la gente che balla Stai dicendo questo? Ma veramente Però cribbio Proviamo ci provo ragazzi non so quanto sia fattibile però ci provo Vai E non ci passa Ah forse non devo passare di qua Ah no no devo passare di lascia un checkpoint ok Eeeh senti No 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 fermati Oh Oh anzio Oh Io la gente la odio in discoteca la odio Guardate Netflix state a casa guardate Netflix avete rotto i tre quarti Oddio mio Vabbè dai almeno il primo salto è easy E il resto che è difficile Poi cambierei anche un po' la musica eh però fate voi In discoteca c'è una teca con un pesce che avanza nessuno dice niente Neanche wow E devo passare di qua zio però se balli è un problema E no e no e ho sbattuto contro un muro invisibile Ok ci sono ci sono ci sono ci sono Ce l'ho fatta E dove l'hai preso non me l'ha preso non me l'ha preso Devi prendere il checkpoint Me l'ha preso Me l'ha preso o non me l'ha preso sto checkpoint Boh non lo so Dove devo andare Devo andare sotto le scale va bene Ah mi sa che devo superare le scale ok Poi mi prende il checkpoint Scale ok Vamonos Giù per le scale piano piano che è un casino Piano 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 mio dio Questo gioco è Death Stranding Più Diablo 4 messi in siena Ok eccoci Bene Adesso Cosa devo fare Ah devo andare Devo passare dietro il bar va bene Mazza che brutta sta discoteca Devo andare avanti non so dove però Ma come mai hai dei panni stesi in una discoteca zio Illuminami ti prego Allora mi sa che devo fare un giro piuttosto largo E' piuttosto angusto Questi qua comunque Bravo il moonwalk alla Michael Jackson Bravissimo Occhio 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 Brava grazie della spinta Sono vivo C'ho solo poca acqua ma sono vivo Sono Sono Più o meno Sono morto Maledizione Devo rimanere con abbastanza acqua per muovermi Se non muoio Allora il problema è che quando arrivo qua C'è gente che inizia a correre Come se mi volesse dar fastidio Porca Sono ancora in piedi Vai ci sono Vai 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 Il checkpoint a sinistra A sinistra Va bene Ci arrivo Ci arrivo Ci arrivo Ci sono arrivato Ce l'ho fatta L'ho preso L'ho preso L'ho preso E' mio E' mio Restate for checkpoint Madonna raga Mamma mia Non mi chiedete come fa Non lo so Mi piace subito il video Questa roba Subito il mi piace L'ho preso volando il checkpoint Occhio E vabbè E allora Se non mi fai frenare Come si frena Mi sa che devo andare Mi sa che forse non devo scendere da lì O si Madonna che brutti siete Vado Ok Devo rallentare fortissimo Perché se no muoio Ok Ok A posto E' perfetto I freni funzionano Devo fare la stessa cosa qua Immagino E non vedo dove sono girato Ok perfetto Una volta una volta Rallenta 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 Bene così Ok E adesso come muoio Seguo Faccio la ola Con loro Dai Mi devo infilare in mezzo Probabilmente Ok perfetto Devo girare anche Mentre gira Loro Loro Per loro è tutto tranquillo Succede sempre Ogni sabato sera Qua dentro E' tutto perfetto Sempre così Checkpoint E prendimelo Ok perfetto Dove devo andare Ragazzi vestitevi un po' meglio La prossima volta Grazie Credo di dover fare il giro lungo Tanto per cambiare Bella la discoteca comunque Un pesce in discoteca Proprio l'ultima cosa che volevo vedere Nella mia vita Però va bene Bene Perfetto Buoni Bravi Come ti amo Come ti amo Come telelimono Quella è la brucia da pesce No non si può fare questo Non so se è legato Andiamo avanti Oh Micia è entrato CR7 Oh Questo è Soffitto Ma cos'è Ma cosa sto vedendo Ma come E' un ratatouille Un po' diverso Ma cosa Ma cos'è Se sto comandando Va bene Dai va bene Va bene Non facciamo domande Dove vado Dove devo andare Io non so cosa dire Ve lo giuro Cosa sto facendo Cosa sta succedendo Ma che idea incredibile hanno avuto Quelli di sto gioco Vai 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 Non devo andare di qua sicuro Ma non posso morire Sono dentro una persona Al massimo mi spingono Madonna che fatica Che fatica Quanto sono ubriaco Devo entrare là dentro Immagino sia È l'unica porta che vedo Che è il bagno Ah ho capito Cosa deve succedere Devo vomitare nel bagno Scommetti O pisciare Uno delle due No immagino vomitare Perché come lo espelli Quello dal Vabbè Vomitiamo nel bagno Eccolo Ecco Tanto il bagno è vuoto È un fantasy sto gioco Oh no 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 Non per terra Non per terra Nooo Eccoci Siamo tornati qua Sono di nuovo io A posto però E dov'è il bagno giusto Immagino sia Non so qual è il bagno giusto Uno vale l'altro Apro questo E non so quale sia Oh eccolo E meno male che era questo Perché l'altro era sbagliatissimo Perfetto Bene Sono quasi Oh ma non c'è nel checkpoint Attenzione ragazzi Se non c'è il checkpoint È grave Perché potrei morire No invece no Invece lo fa Lo fa lui Proprio lui Madonna propulsione era Ragazzi L'esperto Dei pesci Semua Meraviglioso Ragazzi ho finito Tutti e tre i livelli City chaos Suburbia E club bear Nermshire Spero che questi tre livelli Di I am fish Vi siano piaciuti Io sono pesce Che è ancora meglio Come titolo Gioco dell'anno Probabilmente Mai vista una roba così Bellissimo Ci vediamo All'un prossimo video ragazzi Iscrivetevi al canale Sciacciate la campanella Per rimanere aggiornati E come sempre Noi ci vediamo All'un prossimo video Bella ragazzi Buong favore Ciao 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 発